Ciao a tutti ragazzi, sono Ferren, Wonsven, Bingren, WimboboaWen e oggi vorrei un attimo darvi due opinioni, quindi non due consigli se pullare o non pullare, quella è una vostra scelta, io voglio solo darvi una mia opinione personale su quello che penso dei banner, quindi non è né una motivazione a pullare né una demotivazione, anzi è soltanto un piccolo pensiero su come si sta svolgendo questo anniversario, quindi è un video totalmente completamente diverso da tutti gli altri video che sono stati fatti fino ad ora da altri miei colleghi, chiamiamole colleghi, ma prima di iniziare vi vorrei ricordare che siamo tutte le sere live su Twitch, ovvero tutti i giorni, abbiamo un fantastico canale Telegram che c'è sempre giù in descrizione, dove siamo tantissimi e dove ci si aiuta ogni giorno tra di noi, quindi cosa state aspettando? Non lo so, non lo so, non lo so, realmente non lo so. Quello di cui volevo parlare, quindi quello di cui volevo parlare e non è un consiglio se pullare o meno, perché questa è una scelta che sapete voi, sapete voi il vostro account di che cosa ha bisogno, non lo so io, quello di cui volevo parlare sono, su Basa e Müller, l'impatto che hanno sul meta. Se facciamo un calcolo semplice, quindi se andiamo a retroso e già di due anni, da quando sono usciti i bond, esempio, Soge di Gawa, chi aveva Soge Gawa era quattro spanne sopra qualsiasi persona nel meta, chi aveva l'anno dopo Brian nel fratello era quattro spanne sopra chi non aveva Brian nel fratello, stavolta non è così. Quindi che cosa significa che stavolta Müller e Tsubasa fanno cacare? Significa che quindi sono deboli? Significa che quindi c'è qualcosa che non va? No ragazzi, per una volta nella loro esistenza, quindi per una volta nell'esistenza della Kelab, oltre che stanno gestendo bene l'anniversario, stanno gestendo bene il rilascio delle carte. Cosa significa? Che al posto di creare un'unità che è sempre più forte dell'unità precedente, ovvero sicuramente sarà più forte dell'unità precedente, ma a differenza dell'altra volta in cui si tende sempre ad esagerare, creando sempre un power creep sempre più enorme, stavolta hanno creato delle carte che hanno bisogno di delle condizioni. Ad esempio stupido, mentre negli ultimi mesi una carta verde non se ne importava e segnava a qualsiasi portiere, esempio Genzo, Tsubasa ad esempio ha bisogno di delle condizioni per riuscire a segnare. Quindi già parliamo di tutta altra cosa, Tsubasa non segna in maniera così semplice a Genzo, mentre segna in maniera semplice a Müller. Müller invece, a suo modo, si fa segnare in maniera semplice dai giapponesi, ma contro gli stranieri è un muro. Quindi sono due carte che essenzialmente tra di loro sono bilanciate, a differenza del passato, in cui le carte erano forti, fortissime. Se qualcuno si ricorda Sog e Gawa, potevano anche sbagliare i matchup, ti prendevano comunque la palla. Tu cliccavi 1-2 o passaggio, lui scivolava, ti prendeva il pallone. Tu cliccavi dribbling, lui cliccava intercetto, ti prendeva il pallone. La stessa cosa, più o meno, è balza anche per Brian e il fratello. Camminavano per tutto il campo, facevano tutto, andavano, segnavano e tornavano. E recuperavano anche il pallone. Stavolta, a differenza del passato, le carte sono forti, ma non rottissime. Certo, ragazzi, averle fa sempre comodo, ma la differenza tra ora e prima è che prima erano rotte, rottissime e impossibili. Stavolta hanno delle condizioni da rispettare, che è esattamente quello di cui un gioco ha bisogno. Se ogni carta ha una condizione da rispettare, uno, si possono creare più team diversi, due, ogni carta non sa fare tutto e quindi automaticamente si creano diverse composizioni. Creando diverse composizioni il gioco diventa più variegato e più bello. E nulla, ragazzi, penso che per la prima volta la Kelab, nonostante io stia prendendo una vagonata di gol da Yuga, perché Müller soffre Yuga, nonostante io stia prendendo una vagonata di gol e quindi dovrei stare qua a lamentarmi, dicendo, ah no, io ho appena pullato il Super DC, ma sto prendendo solo pugni in bocca. No, sto prendendo pugni in bocca, ma se mi tiri con uno straniero non mi dà nessun pugno in bocca. Se gioco contro una debuff e becco Tsubasa e mi scudo, logicamente, e metto Genzo in campo, non andrò a subire Tsubasa in maniera assurda. Cosa che, se queste carte fossero state fatte due anni fa, Tsubasa probabilmente mi avrebbe segnato da centrocampo, perché era la carta appena uscita e doveva segnare a tutti i punto stop e d'accavo. Quindi, paragonato al passato, paragonato a quello che abbiamo vissuto fino ad ora, mi sento di dire che queste sono carte molto più bilanciate, paragonate a quelle che abbiamo avuto in passato. Di certo, tra Müller e Tsubasa, Tsubasa ha un'utilità più grande a 360 gradi, ma comunque è molto più bilanciato, paragonato a quello a cui ci stavano abituando. Ci stavano abituando ad una serie di carte che doveva recuperare il pallone, prendere il pallone, segnare, autobloccare, fare, dire, fare anche magari il portiere. E quindi ogni carta era identica, non c'era più una differenza. Queste carte, invece che sono appena uscite, iniziano a segnare una piccola differenza. E la stessa cosa vale per le carte della Juventus. Sono utili in dei punti, ma hanno delle falle, che è esattamente quello che deve essere. Ogni carta deve spiccare per qualcosa, ma deve avere anche una falla su cui puoi marciarci sopra. Quindi per ora l'anniversario è iniziato in maniera ottima e le carte stanno uscendo anche in maniera bilanciata. Bilanciata, certo, con statistiche per ora folli, perché le statistiche stanno aumentando sempre di più. Ma ogni carta ha il suo punto o il suo perché è debole in un specifico reparto o punto. Quindi questa cosa, teoricamente, se la mantengono a parer mio, è positivo perché si inizia a creare e variegare un pochino i team. Quindi nella speranza, almeno nella mia speranza, che l'anniversario continui su questa falsa riga, penso che le cose andranno meglio. Quindi penso che finalmente il Dream Team avrà, diciamo di nuovo, un periodo un pochino di splendore, visto che stava decadendo nel buio totale. Non so se siete d'accordo con me, probabilmente no, perché non avete mai visto questo punto di vista. Anzi, leggo da stamattina persone che si lamentano di Müller senza pensare al contesto. Attualmente c'è che lo apre. Ok, ma se bicchi un team senza Yuga, a Müller non gli segni. Certo c'è Ino, ma Ino è ultrasituazionale. Quindi alla fine dei giochi queste carte sono forti, ma allo stesso tempo sono bilanciate, che è quello che dovrebbe essere. Logicamente Tsubasa, come sempre, ha sempre una piccola, ha sempre una piccola marcia in più, come sempre, ma non è così rotto come magari è stato Tsubasa 3.0. Quindi dal mio punto di vista stiamo andando verso la direzione giusta. Spero che le cose continuino così. Fatemi sapere se la pensate come me, o non la pensate come me, magari dite Fabio, sei un coglione, io accetto e dico chapeau. Per questo video è tutto. Spero che vi sia stato utile o vi abbia sbloccato magari qualche pensiero in testa, tutto è possibile, e ci becchiamo al prossimo video. Vi ricordo come sempre che siamo in live su Twitch tutte le sere e c'è il canale Telegram in descrizione.